Come vedete in attesa dell'udienza di Papa Francesco, riprendiamo la linea e lo facciamo di buon mattino sotto lo sguardo di Maria. Sotto lo sguardo di Maria ci spostiamo verso il centro, idealmente verso l'udienza, per dare il buongiorno e il bentrovato a di buon mattino a Padre Mario Piatti, servi del cuore immacolato di Maria, buongiorno Padre Mario e grazie come sempre per essere qui con noi. Ha detto Giacomo, iniziamo questa mattinata sotto lo sguardo, sotto il manto di Maria, la messa ci ha lasciato proprio con questa bellissima immagine di Maria con le braccia aperte che ci accoglie. Come ha accolto suo figlio, come ha accolto con quel sì tutto ciò che ne veniva fuori, che ne derivava, questa divinità e maternità allo stesso tempo di Maria che celebriamo nella Chiesa? Certo, la Madonna è unica da tutti i punti di vista, però è anche totalmente nostra, potremmo dire così, appartiene alla nostra umanità. È madre, è madre che accoglie con la fede più grande questo dono incomparabile, il dono incomparabile che è il figlio di Dio, però appunto è una madre e non è un caso che proprio la Chiesa abbia voluto mettere all'inizio dell'anno, all'inizio di un anno nuovo, incominciamo affidandoci proprio a questa madre, perché anche il cammino di fede è un cammino segnato profondamente da tante difficoltà, da tante prove, ma è un cammino accompagnato da un amore grande e aver fede vuol dire non soltanto avere delle nozioni, avere la coscienza che Dio esiste, che Dio c'è, che Dio ci ha creati, ma avere la coscienza di essere amati. Padre Mario, ci interrompiamo, Papa Francesco è arrivato in questo momento, quindi noi possiamo dare la linea tranquillamente all'aula nervi, ci rivediamo dopo naturalmente, riprendiamo sempre noi tre qua a Di Buon Martino. E l'applauso che avete sentito sancisce il termine di questa popolata udienza di Papa Francesco, ritorniamo qui in studio di Buon Martino, riprendiamo da dove ci siamo lasciati e soprattutto con chi, Antonella? Con padre Mario Piatti, dei Servi del Cuore Immacolato di Maria, padre Mario, anzitutto grazie perché abbiamo vissuto insieme questa udienza nel giorno della conversione di San Paolo e lo abbiamo fatto anche con uno sguardo a Maria, padre Mario, ci siamo lasciati prima dell'udienza parlando di quel cammino, quel cammino che ognuno di noi fa nella propria vita, un passo dopo l'altro che costruiscono le persone che siamo, un passo dopo l'altro che però sono accompagnati dallo sguardo di Maria. Ogni anno la Chiesa dedica una giornata proprio a lei come mamma, mamma vergine di Dio. Sì, è il minimo che possiamo fare nei confronti di colei che è stata la madre del Signore, la grazia più grande che ha ricevuto e Dio ha preparato quel cuore, adattato proprio quel cuore perché fosse la sua dimora in terra. A volte dimentichiamo che il cuore di Cristo e il cuore di Maria hanno battuto assieme nove mesi nel grembo di Maria Santissima, hanno vissuto proprio cuore a cuore. Poi il figlio di Dio si è per primo affidato totalmente alle mani di Maria Santissima e di Giuseppe, la Sacra Famiglia. Questo cuore è un cuore materno e credo che suggerisca tante cose alla nostra riflessione. il primato delle relazioni umane. È bellissimo questo, noi facciamo tante cose nella vita, ci sono tanti impegni, ma quello che conta sono le persone. La Madonna ci aiuta a cogliere il valore essenziale di questo rapporto profondo che ha avuto con la persona che era la persona per eccedenza, il figlio di Dio, ed è stata vera madre. Tutta una riflessione nei primi tempi della Chiesa, perché è un termine anche discusso, c'è stato soprattutto anche un grande personaggio, un estorio che aveva messo in dubbio anche questo termine, sembrava esagerato, sembrava quasi che la Madonna fosse precedente a Dio, a dire che è madre di Dio. In realtà la Chiesa nella sua sapienza fin dai primi tempi ha colto la verità di questo termine, perché una donna è madre vera del proprio figlio, e quel figlio è il figlio di Dio, è il verbo incarnato, è la seconda persona Santissima Trinità, e lei è la vera madre. Certo, come dice Dante Alighi, è figlia del tuo figlio, è bellissima, la genialità degli artisti è sorprendente sempre, ha colto in pieno questa verità, Dio precede tutto e tutto è incentrato sul mistero d'incarnazione, su Dio che si fa uomo, ma Dio si fa uomo? Chiede, tra virgolette, il permesso al cuore di questa madre, lei è proprio mamma fino in fondo, e ci insegna il primato delle relazioni, ci insegna la bellezza della maternità, ce la riconsegna continuamente, ha un linguaggio che, adesso vedevamo la Sala Neve, la Sala Paolo VI, stracolma di gente di tutte le parti del mondo, la Madonna ha da dire a tutti qualche cosa, a ogni latitudine, a ogni etnia, a ogni popolo, ha da dire qualcosa di bello, perché la maternità è un linguaggio universale, è un linguaggio che tutti comprendono, è il top, potremmo dire, dell'amore, è il consacrarsi a una persona, donare se stessi ai propri figli, per questo credo che va sempre come riscoperta, recuperata, proprio anche in questa luce, che è una luce poi umana, umanissima, perché la maternità è umanissima, ma è anche divina, è una maternità divina, quella di Maria Santissima, lei la vive così, con questo sguardo di fede profondo, con questa totale dedizione al suo figlio, diventa esemplare anche per la nostra vita, per il nostro cammino, credo che c'è sempre da imparare tutto, ecco, poi non a caso coincide il primo giorno dell'anno anche con la giornata della pace, la maternità vuol dire all'amore porta alla pace, l'amore porta alla pace, all'attenzione verso gli altri, allo spendersi, spendere proprie energie, perché la pace si ripristini nel mondo, ma si ripristina quando si ripristina qua dentro, nel cuore dell'uomo, sennò le guerre, i conflitti sono l'ultima spiaggia, sono l'espressione più, come dire, evidente di un male che però c'è dentro nel cuore dell'uomo. La maternità è una grande risorsa affettiva, che ci aiuta a cogliere l'altro come un dono, l'altro come una ricchezza, la Madonna lo coglie in una maniera unica, certamente, ma che è proprio vicinissima anche alla nostra sensibilità, per questo tutti colgono questa presenza materna. Infatti anche le parole che ci sembrano difficili, dogma della maternità divina, a una prima vista in realtà, come ce le stai spiegando te, Padre Mario, da una parte ci connettono all'incarnazione, come ci hai spiegato, e ci riportano al tempo stesso a quel sì di Maria, che è stato detto una volta, ma che è stato replicato in ogni istante della sua vita. Ed è quella anche una via che ci viene suggerita, un esempio che ci viene proposto. Il Vangelo è spettacolare perché sintetizza tutto in poche frasi, è un libricino, il Vangelo in fondo è infinito. Il sì di Maria nell'annunciazione è il sì di ogni istante della sua vita, è sempre stata un sì. Diceva una bella riflessione, un sacerdote una volta, la Madonna è figlia, cioè Gesù è figlio della fede di Maria, della preghiera di Maria, è bellissimo questo. È nato dal cuore di una madre che ha sempre pregato, è sempre aperta alla volontà del Signore, ha sempre detto di sì. Ha detto di sì anche di fronte a una proposta sconvolgente, che era quella di essere la madre di Dio, che è una bella responsabilità, insomma, una bella responsabilità essere genitori. Quanti giovani oggi evitano questo ostacolo, perché non me la sentono, si evita, si rimanda sempre. Lei addirittura ha accettato il cuore di essere la madre di Dio. Insomma, vuol dire che ha avuto una fede straordinaria, ha detto, Signore, dico sì, ma mi fido completamente di Te, ed è bellissimo ripensare al rosario, di cui tante volte abbiamo parlato, che tu stringi tra le mani quella corona, come immagine di Maria che prega mentre aspetta il suo bambino e di noi invece che ci rivolgiamo a lei per chiedere, per chiedere che lei possa essere insieme a noi, possa aiutarci magari in quella preghiera ad accettare la volontà del Signore. Sono due aspetti complementari, cioè in Maria la preghiera diventa vita, la vita diventa preghiera e questo lo insegna anche a noi. Tutto quello che facciamo dovrebbe diventare preghiera. Noi abbiamo bisogno di momenti particolari, di riflessione, di raccoglimento di noi stessi davanti a Dio, perché poi tutta la nostra vita, la nostra esperienza diventi preghiera. E poi noi ci rivolgiamo a lei, certo, attraverso il rosario che è meraviglioso. Il rosario riassume la rivelazione, il mistero dell'incarnazione. Poi Giovanni Paolo II ha aggiunto i misteri della luce, anche cioè i misteri relativi alla vita pubblica del Signore, i misteri della passione, i misteri della gloria. Ed è un incessante, come diceva Paolo VI, questo è un indugio pensoso, ecco, è una preghiera litanica, si ripete all'Ave Maria, ma è una ripetizione di amore. Anche qua diceva una volta la nostra sacerdote ogni Ave Maria è diversa dall'altro. Ogni Ave Maria è un modo nuovo, continuamente nuovo, di rapportarci a questo mistero. E forse anche a quello, dovremmo pensare ogni volta, al pensare che ogni Ave Maria, ogni sì, è sempre diverso, non è mai uguale e ci porta sempre un passo in avanti. nella nostra vita. Padre Mario, grazie per essere stato con noi, per averci guidato in questa giornata. Grazie sempre a voi, è sempre una gioia venire a vedere le volte di amici e salutare anche tante persone che ci seguono da casa. Che Dio benedica a tutti e ci accolga sempre con la sua grazia. Grazie mille, Padre Mario, anche di questa conclusione. Andiamo un attimo in pubblicità, giusto il tempo di preparare lo studio, ve l'abbiamo detto stamattina. Torna la musica a Di Buon Mattino e lo fa in grande con Bungaro che sarà qui in studio. A tra poco.